Non fa un tracchio, io attacco pure. Oddio! Forza Dio. Vogliamo vedere il tuo movimento d'attacco? Almeno qualche attacco e poi la leviamo, dai. Qualche attacco e poi la leviamo. Sì, prego. Vai. La vuoi più stretta? È cesa, è cesa già. No, lascia così, poi vediamo. Vai. Qualche attacco? Eh. Per vedere più i movimenti e qualche ricezione. Poi la leviamo. Va una Antonietta. Sicuro la testa. No. Ma! Sperza di farle il momento. È di dapp Nante? Non vedi che sto dietro? l'altra volta tutte inizio da uno P3 P3 no? P2 cambiano Soto Soto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ludo, 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 muro. Occhio! Ludo, 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 Ludo. Ludo, 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 Ludo. Ludo, Ludo, Ludo. Ludo, 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 Ludo. Ludo, 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 Ludo. Ludo, 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 Ludo. Ludo, Ludo, Ludo. Ludo, 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 Ludo.